Signori senatori, signori deputati, il 20 aprile del 1929, anno settimo, inaugurando la ventottesima legislatura, affermavo che nelle società moderne la sfera di azione dello Stato non può più rimanere ai margini della vita sociale. I quadri devono avere una solida preparazione dal punto di vista professionale e devono essere animati dal fervore che è proprio della gioventù e di questo tempo fascista.